Amici di Android Blog, una preview del Talk Band proposto da Huawei dopo la presentazione qui a Barcellona per un congress. Il primo braccialetto che ci permette, oltre alle classiche funzioni di visualizzazione dell'orario, conto dei passi, brucio delle calorie e conteggio delle ore di sonno. Funzione molto innovativa, la possibilità di trasformarlo in un auricolare Bluetooth che ci permette di avere due prodotti in uno. Ricordiamo che è dotato di uno schermo OLED da 1,5 pollici e una batteria da 1500 mAh. Molto intercambiabili saranno le fasce che sono in silicone. Interessantissima la possibilità di ricaricare il braccialetto direttamente dalla fascetta in silicone, direttamente via port USB. Per Android Blog, un saluto da Gabriele.